E' bella questa parte Allora, andiamo Nel generale, Zitta, appena parte il round Cercate di andare il più velocemente possibile Al punto Zitta, guarda un po' Lo sai che qua c'è un esplosivo? Te lo ricordi? No, gli hai sparato Ho sparato l'esplosivo e l'esplosivo ha ucciso l'altro Se continuate così, vittoria è assicurata Mi sa che sto video lo metto sul canale Per fare il male Oh cazzo Oh 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 Cosa sto... Io oggi andrei anche al farm Andate bene Di nuovo ho sparato l'esplosivo Oh quanto divertente Minchia, giocassi sempre come adesso Cioè andremo tranquillamente Niente in vantaggio Lottate per rimanerci Han cambiato strada Ah no Oh sì Oh no Noo, bastardo Oddio, d'altra broia Merda, questi sono gli agguati che fanno male Nooo Nooo Sei un cogliuco Ho due Guarda, è un 40 Attento, titta, sei un pazzo Io ho la super Non so Ma minchia Questo Quanto è? Ma cosa cazzo sta succedendo? No Titta non hai idea di quanta poca vita abbia Ok, beh Titta rimane... No, no Ormai è troppo tanto Ehm Attento che questi probabilmente escono dal portale Se non sono stupido Ecco le munizioni pesanti Ehm, no Io le vado a prendere Vediamo un po' che succede Ti ci chiedono, palemi No, no, no Corri Merda Però non ti devi far prendere No Ah, non mi ero ricordato che avevo il nero Eh, che sfigati però, porco due Neanche in testa, cazzo Non sbagliate Eh, boxa Avvia titta Che stai granate Tammazzo Non so Che cazzo Granate che ti inseguono E che ti scioglie Via Non ho mai capito Però adesso questi qua Non c'è un granate Negli due secondi Basta questo con le granate Ha rotto il cazzo Cioè, al posto di due Ne dovrebbe uscire uno Ma il terzo esotico ne fa uscire due Oh, schiata, bastardo Attento Via Via Porca troia Semmai riuscirò da ammattarlo Questo lo ti beggo Pino a domani Che mi ha fatto non prendere? Ma dov'è? Oh, cazzo La fine Non sono messo anch'io adesso D'arduzioni Eh, ma fidati Quando è da solo Non è così Mi dici Dov'è, amico? Eh, davanti a te Davanti Si sporge Cioè, veramente Eri Eh, da dove è? Ah, quindi non qui Sto ballando Come ti metto questo qui Attento Ah, l'ha sprecata No, c'è ancora Sì, però ha sprecato Ha sprecato a nuovo Ho sentito il rumore A nuovo No 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 Coglione Coglione Oddio Oddio Che cazzo sto facendo Ce n'è solo uno Da te Uno morto Ma ce n'è uno Da te che ti stava fissando o no ultimo guardiano rianima i tuoi compagni dai 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 bene così ho sbragato perché avrei dovuto correre o non hanno il cecchino no ok non so che giro stiamo sono qua aiutatemi ma porca tronio porca compagni porco due poi si in mezzo ci vediamo eeeh non mi voglio esistirare dai ottimo nooo in realtà sono morto e basta che cazzo sta succedendo che cazzo sta succedendo oddio non ci credo stupido guardiano a te dai porco no bè 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 ma il tirato una fresta te l'hai incontro ma che bastardi sono no bè no bè no bè se suona ancora sotto te l'hai promi incazzo e basta non so che sia e non mi interessa madonna ah mi giro al cazzo perché questo è l'ultimo tracciato sull'altra cinta dai non è detta l'ultimo parola come cazzo ha fatto sbagliare qualcuno come cazzo ha fatto sbagliare qualcuno buono buono siamo due pari guardiano a te ultimo guardiano sento questa granata sta malissimo ecco proviamo ad arrivare almeno al 4-3 su ole dove sono gli altri li vedi? andiamo un po' più sulla luce dei nemici e che falle merda mi hai fatto da qui non male ed è alla fine mi hai fatto da qui non male ed è alla fine mi hai fatto da qui non male che cos